Il round infrasettimanale sarà l'opportunità più unica che rara da vedere in panchina. Almeno fin dall'inizio. Henrik Mkhita Ryan, uno staccanovista del centrocampo di Simone Inzaghi, che contro Sassuolo dovrebbe fare spazio all'ex Davide Frattesi nella mediana completata con il conferma Hakan Kalanolwend dal ritorno Nicolò Barella. benjaminpavard.sky sport lo riferisce.